Caio Gregorio è il guardiano del pretorio. Nella vita ognun lo sa l'importante è ben guardà. Prendi il fatto tra i più grossi del vittor Cavarados, che seguendo lo spartito stava lì tutto intristito, a cantà e lucea le stelle, in attesa tra le celle del ploton d'esecuzione, nella dolce via illusione che scarpia, come ben noto, gli facesse spara a vuoto. Ma se invece di cantà, lui t'andava a ben guardà dentro i lunghi fuciloni, nel veder quei pallettoni veri veri e grossi grossi, il vittor Cavarados si sbaglierò ma zitto e mosca, anziché cantà la tosca, ti batteva in ridirata a cantà nella traviata, dove arpeggio che si fosse, si beccava un po' di tosse. E sia pure in forma empirica per restare nella lirica, altro esempio sia in turigo, che da bravo picciriddu dopo aver tracannato a mamma cantò beato, vado fuori un po' all'abatto. Ma se fosse stato esperto, anziché partì sparato, prima avrebbe ben guardato fuori lì dalla finestra, e poi che tra la ginestra con Paralfio, guarda, guarda, si arrodava un'alabarda, se guardava, dico io, non finiva più a schifeo. Quindi amici sia lampante, ben guardare, è l'importante, e perciò ecco per cosa, anzi, mo' lo dico in prosa, acquistando una camicia, controllate che sia controllata dal marchio Scala d'Oro. Qualità del tessuto, è Teritali mischialino lana cotone, il tessuto è inguaggibile a tutta prova che dice no al caldo. Scala d'Oro, qualità della confezione, tagliata sulle nostre misure. Scala d'Oro, qualità delle finiture, curata in ogni dettaglio. Scala d'Oro, la camicia che si lava in lavatrice, e si stira da sola. Perciò sulla camicia, la cravatta, l'abito, controllate il marchio Scala d'Oro, controllo di qualità arrodiatoce del tessuto, della confezione, delle finiture.